Il pugilato a Muzzana del Turniano è ormai uno degli sport principali del centro della bassa friulana grazie all'attività dell'associazione sportiva Box Riviera Friulana che ha organizzato qualche giorno fa il primo grande evento sportivo del 2016 in occasione dei campionati interregionali di box giovanile. In due giorni sono saliti sul ring allestito nella palestra muzzanese 44 pugili, 8 donne e 36 uomini per 22 incontri nazionali di box maschile e femminile. A Muzzana sono arrivati atleti da tutta la regione ma anche da Veneto, Trentino, Lombardia ed Emilia Romagna anche se il contingente più numeroso è stato quello griffato Riviera Friulana con 10 pugili impegnati tra i tesserati del club del presidente Zappetti che ha festeggiato non solo le buone prove dei debuttanti Alessandro Delping e Sabo Occhig ma anche il riconoscimento di miglior pugile dell'evento che è stato assegnato al morteglianese Emil Degano. Il prossimo appuntamento della box Riviera Friulana, sodalizio che conta una quarantina di iscritti è in programma il 2 luglio in piazza nella cittadina della bassa.